uno degli scopi ho letto che uno degli scopi della psicanalisi è quello di far affiorare certe esperienze di vita dall'inconscio al preconscio e poi da questo alla zona cosciente i maestri immateriali che cosa dicono commento dicono che tutto il piano fisico è interamente controllato dai piani superiori di esistenza spiegano che i fenomeni paranormali genuini sia fisici che psichici derivano dall'azione delle anime dei disincarnati o da entità che vivono definitivamente nei piani di esistenza più sottili